Che cosa devi fare? Dimmelo. Te lo dirò, ma non in questo momento. Ecco. Conta. 2.700? Sì. Gabizia? Ho preso la camera. Come faccio a riconoscerlo? E lui come mi riconoscerà? Ragazza, questo non è un gioco. C'è la prigione per quello che stiamo facendo. Se si capitassi a me, che faresti? Una volta cominciato, non si può più tornare indietro. Lo sai che cosa faremo? Non parleremo mai più di questo. Eh?